il medico risponde diamo il buongiorno alla dottoressa sonia balestrello dermatologa buongiorno 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 a lei allora partiamo nel ricordare i numeri ai nostri telespettatori 800 640 771 oppure il numero whatsapp per le vostre domande 347 67 66 291 dottoressa partiamo con i nei o nevi quando è il caso di farli controllare quando bisogna fare una visita quando bisogna preoccuparsi allora normalmente i controlli periodici si fanno quando la cute non è più abbronzata quindi questo è il periodo dell'anno ideale quando la cute non è più abbronzata perché soprattutto con la dermatoscopia che quello strumento che ci consente una diagnosi più precisa rispetto alla sola visita clinica con la dermatoscopia si riescono avere parametri o di malignità i nevi vanno controllati in linea generale una volta all'anno questo vale soprattutto per i soggetti polinevici o per i soggetti con fototipo chiaro cioè quei soggetti che facilmente si ustionano si bruciano si arrossano all'esposizione solare e difficilmente si abbronzano quindi parliamo dei soggetti con capelli biondi piuttosto che capelli rossi e occhi chiari prevalentemente e questo vale poi soprattutto anche per chi avesse una familiarità per melanoma che cos'è il melanoma invece il melanoma è tra i tumori cutanei uno dei tumori cutanei peggiori sicuramente e può derivare sia dalla trasformazione di un nevo benigno in maligno e questo avviene nel 30 per cento dei casi sia come nascita d'amblè di melanoma e questo avviene nel 70 per cento si può presentare quindi come un nevo che improvvisamente cresce raddoppio di dimensione nel giro di tre sei mesi che ha un aspetto diverso da tutti gli altri nevi del soggetto quindi un soggetto ad esempio che avesse tutti i nevi abbastanza chiari ecco un nevo scuro nero può incutere timore un nevo che improvvisamente cambia forma colore dimensione di nuovo richiede di essere osservato con attenzione ecco quando lei diceva soprattutto in questo periodo non ho invernale è il momento migliore perché non siamo abbronzati per fare una visita ma c'è un'età nella quale diciamo così dalla quale si dovrebbe iniziare a fare una visita diciamo e la cosiddetta mappatura dei nei siccome il melanoma in età prepuberale è un'evenienza assolutamente non frequente si consiglia di iniziare con i controlli dei nevi dopo la pubertà la fascia d'età più a rischio per lo sviluppo del melanoma è quella tra i 40 e i 60 anni che sono quegli ex giovani quegli ex ragazzi che si esponevano al sole sicuramente senza usare molte precauzioni creme solari che facevano uso delle prime lampade e in cui che hanno vissuto la loro giovinezza in un'epoca in cui comunque non si prestava attenzione a questo tipo di problema edda buongiorno buongiorno io 89 anni mi è apparsa qui davanti nel petto una macchia scura grande si può dire come un'oliva una macchia scura e volevo sapere quando il premo mi fa un po male e mi brucia un po cosa può essere senza vederla direttamente è praticamente impossibile dirlo potrebbe essere una banalissima cheratosis eborroica che assolutamente benigna e che si può irritare potrebbe essere anche ahimè una problema di ordine tumorale quindi comunque va visitata e va vista dal vero sicuramente ricordatevi sempre che i nostri medici diciamo possono darvi delle indicazioni generali ma non vi vedono non vedono i vostri esami e soprattutto non vi possono visitare comunque insomma il consiglio è quello di andare a fare una visita diciamo se non altro prima parlare con il proprio medico di famiglia e poi eventualmente andare dal dermatologo giusto sì poi la dermatologia forse è tra discipline mediche quella che ha più bisogno proprio del contatto visivo e del contatto di mano per porre diagnosi sulle diverse patologie quindi la semplice descrizione telefonica non consente una diagnosi di certezza Silvana chiede se la mappatura dei nei con la video dermatoscopia è dolorosa assolutamente no assolutamente no perché la dermatoscopia sfrutta semplicemente delle leggi della rifrazione della luce per consentire di vedere le lesioni oltre che ingrandite oltre quello che lo strato corneo quindi lo strato più superficiale della cute e fornisce in questo modo tutto un pattern di colori di immagini che consentono la diagnostica differenziale tra nevo e melanoma ma anche la diagnostica di altre lesioni cutanee sia di tipo tumorale che di tipo benigno non che è un presidio fondamentale nella diagnostica differenziale delle diversi tipi di alopecia quindi perdita dei capelli piuttosto che delle infezioni cutanee e assolutamente non fa uso né di radiazioni né può essere dolorosa ornella buongiorno buongiorno volevo dire anch'io ciò con le macchie lì sono stata da due dermatologhi uno quello dei nervi e l'altro a san pier d'arena e mi hanno detto che sono verruche ecco vuole sapere che cosa sono diciamo signora ma l'ha detto giù i dottori come si può fare non c'è qualcosa da dare da levare perché uno ce l'ho sul seno e le altre di dietro la schiena ora mi hanno fatto un foglio che deve andare ma però credo che le verrucche si devono bruciare no sentiamo la dottoressa grazie ornella allora vista la sua età immagino che si riferissero a verruche seborroiche questo è un modo improprio di chiamarle in realtà il vero nome cheratosi seborroiche perché verruche crea confusione infatti la signora sta pensando in avere delle verruche virali che sono quelle dello sportivo del bambino comuni da infezione virale comunitaria in genere le cheratosi seborroiche sono invece queste lesioni cheratosi che quindi rilevate un po ruvide di aspetto opaco marroni più o meno scuro che tendono a comparire soprattutto dopo i 40 anni prevalentemente i soggetti geneticamente predisposti quindi uno dei genitori della signora probabilmente a sua volta le aveva e aumentano di numero di dimensione col passare degli anni le cheratosi seborroiche possono irritarsi quindi possono anche dar prurito possono cambiare forma colore dimensione ma qualsiasi cosa e se facciano non possono costituire un problema per la salute eventualmente possono costituire un problema di ordine estetico e in questo caso non c'è una crema che le possa trattare ma si possono sicuramente vaporizzare con il laser piuttosto che con la diatermo coagulazione piuttosto che nelle forme più piccole trattare con la crioterapia il curetage chirurgico che sono insomma trattamenti assolutamente semplici da effettuarsi cristina scrive la mappatura viene su tutto il corpo alla prima visita dermatologica certo il dermatologo deve sempre spogliare il paziente e vedere tutto il corpo perché la pelle ci riveste completamente quindi ovviamente nulla va lasciato al caso allora andiamo avanti alberto 50 anni volevo chiedere se le macchie rosse che vengono sul tronco torace braccia con il caldo volevo sapere da che cosa sono causate ovviamente detta così è sempre molto generale però vediamo allora macchie rosse potrebbe intendere gli angiomi rubini che sono dei chiamiamoli laghetti di sangue dei capillari che si rompono e formano queste macchiette rosse che possono essere localizzate prevalentemente al tronco ma si possono localizzare un po ovunque col passare degli anni si sommano nei soggetti predisposti anche rosse mi fa pensare anche però alla possibilità di lesioni tipo ponfo di zanzara che possono comparire in chi soffrisse di orticaria solare dopo l'esposizione al sole quindi è difficile di nuovo poter capire da così poche indicazioni di che cosa sta parlando signore filippo invece chiede se ci sono novità per la cura della psoriasi ritorna sempre insomma tutte le volte che siamo insieme un po come quando c'è l'endocrinologo la tiroidite di ashimoto ecco per la psoriasi allora per quanto riguarda la psoriasi sicuramente si arricchisce sempre di più di un ventaglio ampio di soluzioni la terapia biologica che viene proposta nei casi di però psoriasi cutanea importante psoriasi con coinvolgimento articolare per la psoriasi caratterizzata soltanto da scarse chiazze cutanee da poche chiazze cutanee la terapia invece mantiene quelle che erano i vecchi presidi quindi l'utilizzo di creme mirate contenenti calci potriolo in generale e eventualmente l'utilizzo anche di eh lampade ehm a eh UVA che eh con una lunghezza però d'onda eh particolare che non sono le lampade ad UVA eh di presidio estetico. Ivana buongiorno. Eh sì buongiorno eh dottoressa io proprio lunedì o sono mi sono riconta da un dermatologo che mi ha fatto la crioterapia per queste eh macchiette seborroiche che che avevo qui sul viso soprattutto da un lato non grosse però due circa di un centimetro quadrato e quello che non ho capito è che ehm sono diventate tutte scure 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 che io non si vedevano praticamente erano appena appena più scure della mia pelle e adesso sono tutte viola scure e non mi ha dato nessun tipo di antibiotico se non delle creme eh soltanto solari da più cinquanta da dare più volte al giorno però la cosa mi preoccupa perché vedo che oggi siamo a mercoledì e sono ancora scure lei dice è normale è questo che vuole chiedere la dottoressa. Grazie Ivana. Sì è normale. Sì grazie grazie sentiamo Ivana. È normale perché la crioterapia eh cioè la terapia col freddo provoca un'ustione da freddo quindi la conseguenza eh sulla cute ustionata è che le lesioni si scuriscano per poi ehm formarsi delle croste che cadono. La crioterapia può essere effettuata infatti in questo modo come è stata effettuata sulla signora che ci ha telefonato oppure seguita da cure tage chirurgico e in questo caso si provoca una ferita dove di nuovo l'evoluzione sarà in crosta e riparazione dopo la caduta della crosta. No non è necessaria nessuna crema particolare vanno benissimo eh crema all'ossido di zinco perché favoriscono sicuramente la cicatrizzazione e hanno una blanda azione antisettica e poi a seguire sicuramente è correttissima l'indicazione della protezione solare in quanto il rischio di effettuare qualsiasi poi terapia eh dermatologica eh chirurgica più o meno eh complicata è eh quello di avere una cattiva cicatrizzazione seguito all'esposizione solare quindi la protezione dal sole è assolutamente indicata. Allora prima di fermarci per una piccola pausa sentiamo Chiara. Buongiorno. Posso? Sì certo. Prego. Buongiorno Tiziana. Buongiorno dottoressa Balestrero. Senta io avendo familiarità perché mio fratello ha avuto un melanoma anni fa. Sì. E ogni anno effetto come tutta la famiglia i controlli dei nevi proprio in a San Martino diciamo. Sì. Adesso io avevo un nevo piccolissimo chiamato nevo blu chiamavano cioè lo chiamano e mi hanno detto di controllarlo se cresce. Allora l'ultimo eh controllo che ho fatto a novembre io questo piccolo neo è un pochino cresciuto però facendo la mappatura come al solito di controllo mi ha detto di non preoccuparmi però mi è rimasto un dubbio mi scusi se me lo può dissipare. Grazie dottoressa per tutte le informazioni. Grazie. Grazie Chiara. Ovviamente la dottoressa non la non la vede nello specifico però magari l'indicazione diciamo della grandezza eh tanto lei è sotto controllo. Prego. Allora i nevi blu eh sono nevi che acquisiscono una colorazione ardesiaca semplicemente perché i melanociti cioè le cellule che costruiscono il nevo sono più profonde e quindi la rifrangenza della luce degli strati superiori dà questo effetto eh bluastro. Sono nevi che in genere compaiono in età eh prepuberale e in genere in posizione acrale vale a dire si trovano più frequentemente a livello dell'estremità degli arti o eh a livello del dipartimento testa collo. Sono nevi assolutamente benigni come gli altri. Un nevo blu che compare è eh un nevo che eh un nevo blu scusate che eh preoccupa è eh o può essere un nevo blu che compare in età adulta improvvisamente e che improvvisamente cresce. Questo ha un comportamento biologico diverso dal nevo blu classico. Quindi se la signora aveva questo nevo blu già da anni e viene tenuto sotto controllo non vedo quale problematica ci possa essere in particolare. Le macchie solari scure sul viso già confermate dal dermatologo. Come si possono togliere? Le creme non funzionano. Grazie Carmen ho 65 anni. Le macchie scure sul viso in linea di massima se sono lentigo solari benigne si trattano con il trattamento laser. Eh fondamentale in questo caso è la cooperazione tra medico e paziente nel senso che il medico provvede a trattare con il laser la macchia. Ma perché poi il risultato persista nel tempo da parte del paziente ci vuole attenzione nei mesi successivi al sole perché altrimenti se non usa protezioni solari eh quello che succede è ripresentarsi della macchia. Pronto buongiorno. Buongiorno sono Claudia. Claudia buongiorno. Senta io ho mamma con la posteriasi grave. Sì. Mi continuano a dare solo le stilar schiuma. Non mi hanno dato nessuna terapia per bocca perché mamma è cardiopatica grave. Volevo sapere ora gli ha preso anche le mani è tutta spaccata. Come la gestisco una patologia del genere. Io l'ho portata anche a lesioni difficili a San Piero d'Arena. Non gli è andato niente. Grazie. Grazie. Grazie Claudia. Allora eh l'accessibilità a eh terapie eh gene eh per bocca per la psoriasi o addirittura a eh terapie eh biologiche si valuta ovviamente eh dopo una visita in cui si tiene conto sia eh del eh impatto della psoriasi sulla qualità di vita del paziente sia sulle comorbilità presenti perché alcuni farmaci ad esempio non possono essere utilizzati eh in soggetti eh cardiopatici. Ci possono essere diverse controindicazioni per diversi tipi di eh classe di farmaco. Quello che le consiglio è di accedere ad un centro Psochea ce ne sono eh diversi sul territorio Ligure è uno dei quali è eh a San Martino la clinica dermatologica universitaria e eh qui eh sapranno ovviamente eh valutare i pro e i contro per tutto il ventaglio di terapie che ci sono a disposizione che non sono poche. Franca da Sestri scrive per i dolori post herpes zoster è consigliato una visita dermatologica? Direi di sì anche perché se eh questi dolori persistono effettivamente si possono fare delle delle terapie che eh in genere eh agiscono per l'appunto sul eh dolore neurodermitico cioè da infiammazione delle terminazioni nervose che può persistere dopo un herpes zoster. Olga buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo sapere dalla dottoressa che io mi hanno tanti anni che ho dietro una di quelle cose lì con come si dice come si chiamano quelle... E non lo so signora ci aiuti a capire. Ecco allora ho dietro la schiena ma sarà dieci anni anche più una dove c'è oh mamma mia come una specie di di crosta e l'ho fatta togliere e l'ho tolta anche di volte ma mi ritorna sempre però io poi mi sono stufata ho detto cosa ci posso fare perché la facevo togliere dalla dermatologa che ha col freddo no? Eeeh e io... Ah con la crioterapia e poi tornava grazie grazie Olga allora credo che sia quello di cui parlavamo prima ma vediamo. Sì allora le keratosi seborroiche effettivamente possono anche recidivare dopo i trattamenti in generale a distanza di qualche anno e se recidiva sempre dopo la crioterapia io direi che forse potrebbe provare con la diatermocoagulazione fermo restando che sia una keratosi seborroica. Però insomma faccia riferimento alla sua dermatologa. Dopo una seduta di depilazione definitiva su pelle scura mi sono rimaste delle macchie bianche eh ormai sono passati sei mesi. Secondo lei tornerò del mio colore? Eeeh dipende dipende da chi ha usato il laser da come è stato usato il laser su pelle scura effettivamente il rischio che vengano colpiti i melanociti quindi le cellule deputate alla produzione del pigmento cutaneo eh esiste e eh quindi mh è difficile dirlo. Ora siamo nei mesi infernali e lo scoprirà probabilmente durante l'estate vedendo se appunto ripigmenta in quelle aree chiare o meno. Allora andiamo avanti con un'altra eh telefonata se non le leggo un messaggio. Allora Giovanna da Sestri scrive qualche anno fa mio marito è stato asportato in uno studio privato un neo che il dermatologo riteneva potesse essere un tumore. Vorrei sapere se avendo mio marito tantissimi nei qualcuno potrebbe trasformarsi di nuovo in tumore. Il rischio di eh nascita di un melanoma su un nevo preesistente è del 30%. Quindi i melanomi nel 30% eh insorgono su un nevo preesistente e nel 70% ex nuovo. Quindi teoricamente un minimo di rischio esiste. Se quello che ha asportato suo marito è stato un melanoma comunque per almeno 10 anni deve aver fatto un controllo dermatologico semestrale. Dopodiché deve continuare a fare un eh controllo dermatologico annuale perché rispetto alla popolazione generale sicuramente c'è un rischio maggiore soprattutto se polinevico di eh sviluppare una seconda lesione tumorale. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Sì sono Giuseppina Navone. Prego Giuseppina. Faccia la sua domanda. Eh volevo chiedere alla dottoressa dato che sono una signora di 85 anni e mi tiene sempre il plurito nelle gambe. Devo sempre darsi pomate questo perché a volte non mi lascia proprio dormire. Vuole un po' sapere che cosa potrebbe essere signora. Scusi? Vuole un po' sapere che cosa potrebbe essere? Che cosa si può fare? Allora sentiamo la dottoressa. Grazie Giuseppina. Allora il plurito eh nelle gambe soprattutto dal ginocchio in giù e soprattutto nella zona pretiviale è eh eh un problema frequente eh che eh aumenta con il trascorrere degli anni ed è legato alla secchezza cutanea. Quindi sicuramente il consiglio è idratare con una crema appropriata eh gli arti inferiori. Meglio ancora tutta la superficie cutanea. Comunque gli arti inferiori eh mattina e sera. E iniziare a farlo non quando eh già c'è il trurito presente ma iniziare ma farlo praticamente sempre in modo che eh non insorga neanche con la stagione invernale o insorga in maniera molto più blanda. Un altro consiglio è di non esagerare con il numero di bagni e docce perché eh ovviamente con ogni detersione si allontanano i lipidi di protezione cutanea e quindi si riduce la barriera cutanea e questo favorisce eh l'insorgere di secchezza e di prurito. Bianca scrive da mesi sto usando Advantan crema per due granulomi anulari sulle mani. Non passano per niente anzi peggiorano. È normale? Sì può essere normale. Allora fermo restando che la diagnosi sia eh corretta. Il eh granuloma anulare è assolutamente capriccioso. Si manifesta per chi all'ascolto con ehm chiamiamoli cerchi o semicerchi rossi dell'acute rialzati. Quindi figure mh policicliche in generale. E eh non è sintomatico. Quindi non da prurito. Eh si localizza più frequentemente all'estremità. Quindi tipo eh alle mani. Eh la terapia è il cortisonico ad uso locale. Non è giustificata la terapia con cortisonico sistemico soltanto per due piccole lesioni di granuloma anulare. Anche perché il rischio è che la sospensione della terapia a questo recidivi e quindi la gli effetti collaterali del cortisonico sistemico per una patologia limitata e eh che non comporta null'altro dal punto di vista generale non è giustificata. Quindi sì eh l'unica cosa che potrebbe fare la la signora che che ha scritto è eh cambiare il cortisonico eh che sta usando per passare ad una classe di cortisone più potente sempre ad uso locale. Allora l'ultima veloce telefonata. Paola buongiorno. Eh sì buongiorno. Senta. Eh dunque buongiorno dottorezza. Buongiorno. Sul viso, su una guancia io ho un piccolo nero più o meno normale piatto. L'unica cosa è che negli ultimi anni sono cresciuti dei bellozetti che eh sono quest'anno scuri. Non è che siano belli da vedersi. Io mi chiedevo se si potevano o togliere o fare un non so che cosa perché li trovo veramente agi estetici. Ecco. La ringrazio dottoressa. Grazie mille. Grazie Paola. Allora fermo restando che sia un nevo eh il laser no sicuramente eh li può tagliare. Li può tagliare e eventualmente previa visita e che attesti l'assoluta benignità del del tipo di nevo si può pensare anche a ehm alle pinzette. Fatte comunque in maniera garbata utilizzando dopo sempre una crema eh idratante lenitiva. Ma solo se prima il nevo viene osservato da un dermatologo che ne dichiari l'assoluta benignità. Un neo anomalo individuato dal ginecologo sulle parti genitali da chi deve essere controllato? Basta al ginecologo oppure va mostrato al dermatologo? Dal dermatologo. Dal dermatologo perché purtroppo il melanoma si può presentare anche eh in aree neglette vale a dire in aree che di solito non vengono osservate come sono le aree genitali, la regione perianale, il cavo orale. Un eh melanoma di pertinenza non dermatologica è eh poi quello a partenza dalla retina dell'occhio. Allora grazie alla dottoressa Sonia Balestrero. Chiedo scusa alle decine di telespettatori che hanno scritto un messaggio a cui non abbiamo dato una risposta ma ci rivedremo presto con la dottoressa Sonia Balestrero e tutte le vostre domande. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata, grazie.